Una donna è precipitata ieri sera al piano sottostante della sua abitazione dopo il crollo del pavimento per un cedimento strutturale del solaio a causa di infiltrazioni d'acqua e accaduto poco dopo le 20 al civico 44 di via Santissima Trinità a Catania. Per la donna trasportata al pronto soccorso del Vittorio Emanuele fortunatamente solo contusioni e diverse escoriazioni. Le due abitazioni interessate dal crollo sono state dichiarate inagibili.